oggi gnocchi di ricotta al pomodoro burro e basilico sì io uso la planetaria anche per fare l'impasto metto la ricotta aggiungo due uova come al solito vi lascerò tutti gli ingredienti e il procedimento qui sotto in descrizione aggiungo il parmigiano reggiano grattugiato quello buono perché questo ingrediente a mio modo di vedere fa la differenza assieme alla ricotta aggiungo un pizzico di sale ed ora la farina metto la foglia sulla planetaria e comincio ad impastare senza andare troppo veloce vedrete ci vorrà un minuto un minuto e mezzo non vi preoccupate se l'impasto vi sembra troppo lento perché tanto quando farete i gnocchi aggiungerete un poco di farina sul piano da lavoro l'importante è che quando togliete l'impasto dalla planetaria riusciate a farne una palla e che questa stia assieme nel mentre ho spolverizzato la spiagnatoia con un poco di farina ma se volete potete usare anche la semola e con dei pezzi dell'impasto ho fatto i filoncini ed ora procedo a fare i gnocchetti così come vedete dal video la grandezza dei gnocchetti dipende dal vostro gusto c'è a chi piacciono piccoli c'è a chi piacciono un poco più grandi come al sottoscritto come vi avevo detto sul piano da lavoro ho messo un poco di farina quando avete fatto tutti i gnocchetti li mescolate un poco e se vi pare che si attacchino un poco aggiungete leggermente un po di farina intanto ho messo sul fuoco una padella con una noce di burro della passata di pomodoro e un po di basilico e come vedete ho già cotto alcuni gnocchetti e li ho messi nella padella tengo alcuni gnocchetti da parte perché qualcuno li vuole burro e salvia ed ora proseguo la cottura di tutti i gnocchetti oggi col fatto che piove ci stanno davvero a fagiolo bene amici ci siamo provatene anche voi sono davvero buonissimi